E siamo qui ancora una volta con Paolo Turati, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci qua per parlare un po' di economia, un po' di politica, un po' di finanza, un po' dei nostri portafogli, insomma, più ne ha più ne metta. Però partiamo ovviamente dal dato di cronaca. Allora, domani scade un ultimatum. L'Unione Europea ha detto all'Italia, domani è l'ultimo giorno per presentare un piano credibile. Lasciamo perdere le risatine di Merkel e Sarkozy alla domanda, ma Berlusconi vi dà rassicurazioni? Vabbè, si sono guardati un po' ammiccanti, lasciamo perdere. Parliamo delle cose concrete invece. Questo piano arriva, domani veramente riusciremo a presentarlo e soprattutto quali sono queste misure che il governo sta pensando per dimostrare che l'Italia ce la farà? Innanzitutto bisogna dire che questo piano ulteriore a tutta una serie di provvedimenti legislativi che sono già stati prodotti nel corso di quest'estate e di questo inizio autunno è stato reso necessario dall'incremento del costo di approvvigionamento del danaro da parte del debito pubblico. Questo famoso spread di cui abbiamo più volte parlato di 400 punti significa che per ogni punto in più lo Stato italiano che ha circa 2 miliardi di debito pubblico ha 20 miliardi di costo all'anno in più soltanto per ripagare il debito. Quindi in questa estate in cui lo spread fra i governativi italiani e i tedeschi si è espanso fra 150 punti a 400, sono ballati 57-58 miliardi di euro. Quindi la manovra precedente è sostanzialmente già stata mangiata dall'incremento del costo del danaro da parte del debito pubblico per potersi autofinanziare. E quindi nuovamente c'è da andare su un discorso di tipo strutturale. A parte che i francesi hanno poco da ridere perché anche loro hanno in questi giorni raggiunto il massimo dello spread fra i loro governativi e quelli tedeschi. Quindi il prossimo paese che verrà attaccato alla speculazione è sicuramente la Francia che tra l'altro, per inciso, ha un rapporto deficit più peggiore del nostro, ha molta più disoccupazione, ha grossi problemi con la Grecia in quanto le banche francesi sono coperte di titoli governativi greci che ormai è stimato perderanno dal 50 al 70% in conto capitale nel caso di rimborso e oltretutto ha una situazione di export molto peggiore del nostro. Quindi direi che la Francia mostra i muscoli, li ha mostrati anche bene perché tutto sommato ha sfruttato in maniera intelligente una fase geopolitica per cui ci ha sostanzialmente sottratto come area di influenza la Libia e per noi vuol dire molto, tant'è che avremo delle ripercussioni su alcune aziende importanti che lavoravano con quel paese che ora si troveranno ovviamente sostituite con aziende francesi e americane. Ma poi adesso all'indomani della morte di Gheddafi, anche i rapporti con la Libia sono un po' tutti da costruire ancora, con la nuova Libia. E comunque anche il fatto che Obama stesso abbia ringraziato tutti tranne noi che insomma avevamo un momentino aderito a questa azione a un torto collo e perché avevamo dei rapporti privilegiati con la Libia da sempre ovviamente, è chiaro che crea una situazione che non è particolarmente brillante per un paese come il nostro che insomma era il primo partner internazionale della Libia. Quindi comunque vedete che dietro la finanza c'è anche la geopolitica, lo dicevamo prima. Questa azione che è imposta da questo direttorio a due teste tedesco e francese all'Italia è un'azione che viene richiesta in forma strutturale sostanzialmente. Si chiede all'Italia una serie di riforme che siano in grado di produrre nel lungo periodo dei gettiti e comunque delle crescite di un certo tipo. Allora è chiaro che il problema del condono fiscale o del concordato, chiamalo come vuoi, non è una cosa strutturale. Una cosa più intelligente invece è questa sorta di accordo che pare venga fatto così come altri paesi hanno già fatto fra Italia e Svizzera per i patrimoni non scudati, in modo tale da poter avere un introito, un attantum importante, si parla di 25 miliardi di euro e poi un continuo inganno di 2-3 miliardi. Quindi direi che potrebbe... In virtù di cosa questa entrata a un attantum? Una tassa praticamente? Una vera e propria tassa per cui sostanzialmente l'Italia dice alla Svizzera senti, tu a fronte di una certa contropartita concedimi, a fronte anche dell'anonimato che viene mantenuto, un certo tipo di copertura da un punto di vista di scambio sia di informazioni sia però anche da un punto di vista proprio di possibilità di tassare a monte queste cose qua. E quindi si parla di una cifra importante perché in effetti si presume che in Svizzera siano ancora presenti parecchi centinaia di miliardi di euro italiani e quindi questa potrebbe essere un'operazione intelligente. La seconda operazione ovviamente che è necessaria perché è chiaro che non ci sono altre soluzioni è intervenire sul campo pensionistico. Non tanto e non solo per il fatto che, come si dice, quasi tutti i paesi europei hanno una media d'andata in pensione di 67 anni e quindi anche noi, certo, anche quello è giusto che sia così. Si parla di portare la famosa quota 97, quindi contributi più età, anni di contribuzione più età anagrafica già dal 2012 e a quota 100 dal 2013. Il problema è che, per noi più grave, che in termini di prestazioni noi ragioniamo, abbiamo ragionato fino a pochi anni fa sul regime retributivo, nel senso che tanto tu avevi come ultimi stipendi e tanto ti davano come pensione, quando invece sarebbe stato giusto ragionare fin dall'inizio in termini invece contributivi, cioè tanto tu hai dato, tanto tu avrai. Quindi questo oltretutto, unitamente al fatto che negli anni 60 e 70, quando è stata strutturata la riforma previdenziale, non si è tenuto conto dell'allungamento della vita media e noi in Italia abbiamo la vita media che insieme a quella dei giapponesi è la più alta e quindi anche lì vuol dire che abbiamo un'ottima sanità perché mediamente stiamo curando bene i nostri anziani, però è un gatto che un po' si morde la coda perché i nostri anziani vivono di più e ci costano di più e quindi ecco che è una politica che va affrontata in un certo modo. D'altronde anche nel discorso delle pensioni sembra che la coperta sia sempre troppo corta perché innalzare l'età significa togliere posti di lavoro ai giovani. Significa togliere posti di lavoro ai giovani e d'altra parte comunque c'è un altro aspetto che le pensioni di molti anziani servono per mantenere i giovani disoccupati, abbiamo delle famiglie in cui si mangia e si pagano le bollette perché c'è un anziano che ha la pensione, perché se no non riuscire a essere perché il giovane non lavora e quindi effettivamente è un paradosso che ha delle problematiche abbastanza rilevanti e consideriamo che tutto sommato siamo in una situazione disoccupazionale molto seria perché abbiamo già detto che abbiamo quasi il 10%, l'8% è rotta in Italia mediamente ma con punte del 30% sui giovani e quindi il problema è che strutturalmente, torniamo al discorso di fatto a suo tempo, bisogna razionalizzare veramente l'entrata nel mondo del lavoro già prima nel senso che oggi come oggi non è più necessario, non è più sufficiente avere la laurea ma intanto dipende da quale laurea e poi devi avere in effetti un percorso un po' come i latini chiamavano cursus honorum, cioè devi veramente strutturare quasi quasi dalle elementari in poi un percorso perché diversamente ti ritrovi poi a essere con 3.000 laureati a fare i famosi concorsi per tre posti e quindi la situazione sotto questo punto di vista è necessaria. D'altra parte non è più sostenibile uno stato previdenziale come il nostro, tenete presente che il picco di prestazione dell'Inps dal 2040, per il discorso che facevamo prima, quindi del retributivo, è sceso al 2030, quindi da adesso al 2030 noi avremo solo una crescita ancora di prestazioni richieste da parte della popolazione che già oggi sostanzialmente non siamo in grado di andare a coprire e quindi non si può che intervenire in un modo che man mano vada ad aumentare l'età pensionabile e cercare di ammortizzare quello che è l'effetto dell'azione retributiva rispetto a quella contributiva. È stato fatto un tentativo della famosa terza gamba con il TFR a suo tempo conferito alle gestioni, quindi con anche una defiscalizzazione all'11% anziché al 12,50% ma anche lì hanno aderito abbastanza in pochi per adesso il 30% mediamente e fa fatica a entrare nelle corde della gente. Infatti io sono assolutamente favorevoli a mantenerli all'Inps, comunque i TFR, anche perché hanno un rendimento garantito del 75% dell'inflazione più di 1,5%, voglio vedere oggi come oggi garantito dallo Stato che cosa ci sia di meglio. Quindi direi i due fattori che potrebbero andare a creare una situazione favorevole e quindi avere questa licenza da parte dei presidi a questo punto. Berlusconi è stato veramente in presidenza, è stato convocato. Anche ha detto mi hanno trattato come uno scolaretto. Quindi gli daranno eventualmente un imprimato il credo di sì. Tutto questo dovrebbe poter portare a un alleggerimento della pressione in particolare sui prezzi dei nostri titoli di Stato che attualmente quotano ancora parecchio sotto la pari e quindi danno vita a un rendimento che è molto alto. Ormai sui quinquennali dei BTP siamo oltre il 5% e sui decennali anche di più. Quindi questo è tutto costo in più per lo Stato. Questo dovrebbe in qualche maniera alleggerire l'attenzione sul nostro paese e probabilmente spostare poi l'attenzione della speculazione internazionale su altri. Sperando che le famose case di rating a un certo punto comincino anche a prendersela per esempio con la Francia. Perché effettivamente i francesi in questo oggi come oggi sono in grande tensione. Sembra che dovrebbero ricevere anche loro un bel declassamento. E quindi questo dovrebbe far sì che insomma morso tua vita mia. Guarda che dalla regia hanno fotografato una parola che è uscita dalla sua banca agenzia di rating. Queste tre agenzie e le principali insomma Moody's, Standards & Poor's & Fitch sono tre agenzie storiche assolutamente private detenute tra l'altro da grandi finanziari e da grandi gruppi bancari e quindi in palese conflitto di interessi. Perché se Moody's per esempio che è partecipata anche dalla Berkshire Hathaway di Warren Buffett fa delle azioni su una certa azienda valutando in un certo modo è chiaro che una corporate importante come Berkshire Hathaway che ha di mezzo nelle proprie partecipazioni in mezzo mondo è chiaro che può avere dei vantaggi. D'altra parte si tende anche a dare troppa enfasi e questa è una responsabilità direi dei media perché tutto sommato anche il fatto che queste case di rating abbiano in passato sbagliato in maniera significativa Lehman Brothers insegna e Grecia altrettanto e nonché Islanda quindi insomma direi che forse da un certo punto di vista le ha rese più attente nell'essere più stringenti in certi tipi di loro giudizi e quindi più severe e quindi magari ingiustamente quando magari non lo sono state in passato l'abbassamento del rating degli Stati Uniti è stato un pochettino un caso scuola insomma. Certo è che comunque essendo strutture private a tutti gli effetti che possono muovere in senso positivo, in senso negativo le borse, le quotazioni, i titoli di Stato sono un qualcosa che se non fossero così seguite specialmente dai media probabilmente non riuscirebbero a sortire quegli effetti importanti che ottengono perché vent'anni fa queste agenzie c'erano perché sono centenarie e praticamente nessuno di noi gridavano nel deserto ma più o meno nessuno li ascoltava. Adesso giustamente ok il discorso diventa diciamo un pochettino importante il rating sostanzialmente che cos'è? Una scala di valori che viene definita su una base molto semplice si parte dalla A e si arriva alla D che sta per default. Che vuole fallimento. Esatto. Allora in tutto questo range si parte normalmente dal AAA che è il massimo attualmente a disposizione. Come per i frigoriferi? Ecco come l'efficienza energetica. Quindi AAA ce l'hanno ancora oggi pochi stati sovrani, la Germania e la Francia che è in corso di perdita di questo, pochissime aziende corporate e praticamente gli stati sovrani principali sono ormai fra il AA e l'A come Italia che si è beccata ultimamente due note di De Falco. In serie B normalmente ci sono quindi le BBB sono le corporate di una certa qualità quindi aziende che comunque hanno ancora un investment grade cioè possono essere in effetti comprate da fondi comuni e gestioni di risparmio perché effettivamente hanno comunque un codice abbastanza interessante. Quando le B diventano poche quindi da 3 diventano 1 o B meno eccetera e si arriva alla C sostanzialmente si entra nello speculative grade cioè a livello speculativo in cui vengono investiti determinati capitali e quindi in particolar modo le gestioni di fondi comuni non possono essere, non possono intervenire su questi investimenti, possono intervenire gli hedge. Quindi sono operazioni più speculati, gli hedge funds sono quelli che lavorano sui margini di copertura quindi utilizzano gli strumenti finanziari anche derivati per coprire le proprie posizioni. Per esempio gli hedge funds che si difendono dai cali di borsa sono fondi che possono vendere allo scoperto titoli onde poi ricomparli nel caso che il mercato discenda. Cosa che per esempio i fondi comuni normali non possono e noi normalmente privati non potremmo fare. Possiamo anche farlo ma non potremmo farlo se non con certe operazioni che le banche ci devono dare a copertura. Quindi questi sono i fondi contrarian cioè il mercato sale e loro girano le posizioni nel ribasso. Quindi questo per dire che quando poi si arriva a C e D evidentemente la situazione intanto non se ne accorgono mai prima perché il discorso di Lehman Brothers è stato che fino a due giorni prima del default era un A o doppio A e poi quando hai fallito gli hanno messo un bel D. Grazie a quel punto sarei stata capace anche io. Prendiamolo come strumento informativo di cui interessarsi ma valutiamo quello che è giusto valutare che cioè gli stati sovrani in particolare quelli che come l'Italia hanno una situazione patrimoniale lusinghiera perché noi comunque abbiamo un rapporto patrimonio totale dell'azienda Italia con presso la famiglia. Debiti totali dell'azienda Italia pari a due volte il patrimonio rispetto ai debiti. Quindi sostanzialmente siamo posizionati molto bene. Il problema è che abbiamo un problema di crescita, abbiamo un problema che probabilmente ci proporrà il prossimo futuro e cioè di non riuscire a mantenerci in un'area in cui non abbiamo più la possibilità di svalutare. Noi essendo un grande esportatore non potendo più svalutare la lira da dieci anni ci troviamo con delle problematiche di crescita vedremo un pochettino come si svilupperà io credo una diaspora in questa area euro. Vedremo innanzitutto vediamo se riusciamo a convincere l'Europa della bontà del nostro piano. Grazie Paolo Turati. Grazie a voi. No perché sarà festa ci riusciamo tra due ma questo ve lo raccontiamo poi un'altra volta. Adesso c'è la pubblicità e poi la cultura. Grazie a voi.